Da una parte c'è il Nicolás Maduro che assiste alle esercitazioni delle forze armate per rafforzare il legame con l'esercito e dare dimostrazione agli avversari della forza che potrebbe essere messa in campo in caso di proteste. Dall'altra c'è Juan Guaidó che dopo aver partecipato alla celebrazione dedicata alle vittime della repressione lancia un appello a quelle stesse forze armate affinché le violenze non si ripetano anche questa settimana. La confusione che ormai da quattro giorni regna in Venezuela corre anche in diretta tv. L'autoproclamato presidente ad interim davanti alla telecamera ha chiamato la popolazione a due nuove mobilitazioni. La prima mercoledì a mezzogiorno 17 ora italiana per chiedere l'appoggio delle forze armate alle proteste pacifiche. Gli attivisti del partito di opposizione sono già scesi in strada carichi di volantini per convincere i militari a sostenerli. Hanno consegnato ad uno ad uno il testo della legge sull'amnistia, quella che garantirebbe un salvacondotto a chiunque aiutasse la transizione pacifica verso nuove elezioni. La seconda mobilitazione invece è prevista per sabato, una grande marcia nazionale che partirà da ogni angolo del paese, ha detto Guaidó, a sostegno dell'ultimatum dell'Unione Europea per nuove elezioni.